segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te riso in cui avviene la morte della regina no sì non c'è dubbio che il giudizio popolare quello che diceva bragino prima nei riguardi di di carlo che quindi era un un settantenne cresciuto vicino alla mamma e quindi insomma un bamboccione avrebbe detto il vecchio padovan ma il dato vero è che è la funzione che poi finisce che peraltro nella foto che abbiamo anche alla mia destra sembra la figlia di carlo cioè in questa foto non è che capisci bene esattamente tutto al più il marito ma il dato vero è che poi però la funzione del re sarà come dire lo farà la misura la misura di quello che poi questo signore vissuto all'ombra di tanti personaggi autorevoli e che ha finito per per subire una imposizione della madre quando la signora luisa parlava dei ragazzi che non furono che furono allontanati e ha sposato sposando una bella donna come diana però che non amava perché era ancora sessualmente preso dalla relazione con camilla quindi quell'errore lo ha subito ha tradito una bellissima donna amata dal popolo quindi ha fatto un pasticcio che non finiva mai ma spinta anche dalle dalle contingenze oggi è solo con la sua responsabilità in un regno attraversato da mille problemi come in tutto il mondo e quindi lì si misurerà la sua capacità io devo aggiungere però che la tenuta della monarchia avrà un contributo importante anche da william e kate perché in realtà il giudizio che danno non solo i media ma anche il popolo nei riguardi di william e dicete un giudizio positivo e vedono in lui il vero re in futuro ma infatti il tema poi l'altra domanda che ci dobbiamo fare è adesso gli inglesi guarderanno a carlo come il re che quindi sta lì per un tempo indeterminato e ritorniamo alla questione dell'immortalità oppure come un re a tempo in attesa che william in un modo o nell'altro arrivi lui al trono perché questo è un altro elemento in molti dicono scommettono che di qui ad un anno carlo metterà sul tavolo problemi vari di salute e si sottrarrà al suo ruolo in funzione del fatto che il figlio diventi re alessio è cambiato